Trovarsi al posto giusto al momento giusto è successo a Maurizio Sansoni il 4 settembre scorso. Il giovane fuscaldese e insignito ieri di un riconoscimento al merito ha avuto la freddezza e la prontezza di prestare il primo soccorso ad un ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale. Non è accaduto nemmeno da 30 secondi, vederlo in quello stato mi è venuto istintivo reagire e aiutarlo in quello che potevo. Un intervento salva vita reso possibile dall'esperienza maturata da Maurizio due mesi prima durante un corso sulla sicurezza sul lavoro. È un corso che serve, anzi io ero molto, come si può dire, titubante nel farlo però l'ho fatto per lavorare in un'impresa edile perché purtroppo come si sa i rischi sono tanti sulle impalcature, nelle imprese. Quindi magari salvare la vita a un ragazzo che lavora insieme a te è necessario ed è fondamentale prima che arriva l'ambulanza. Non pensavo che mi potesse essere utile così quotidianamente il corso di primo soccorso, invece ho trovato un riscontro fondamentale che può essere utile nella vita quotidiana, di tutti i giorni, sempre, oppure usarlo soltanto sul posto di lavoro. Un gesto istintivo ma al contempo eroico che il Consiglio Comunale ha voluto sottolineare con un piccolo riconoscimento. Grazie.